Siamo a Feltre, prima giornata di eccellenza, girone B, Feltrese contro Dolo 1909, una delle bestie nere, Feltrese in maglia bianca, poggia a buon donno, c'è su una sinistra Trevisan, soppelsa, sbaglia l'intervento, il cross esce bene, attenzione la palla è lì, nessuno si salva, poi la difesa si salva, intervento di Balotta, numero 11 della squadra ospite, Pelicanò, Pelicanò, Pelicanò in area, bel numero di Pelicanò, poi la mette dentro e Sanavio anticipa il fallo, fallo di D'Arizza, un po' contro il cerchio di centrocampo, attenzione perché c'è Buon Donno libero sulla sinistra, soppelsa, sbaglia ancora soppelsa, e traversa di Buon Donno, ha calciato di piena potenza, non so se Bey l'ha toccata, secondo D'Arizza, soppelsa, D'Arizza, verso Deldin che rimane lì, Moroni non ci arriva, c'è Gondo in area, Gondo, 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 Moroni è bravo, lo tiene lì e poi ribatte, Deldin, 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 palla di un niente alato, bravissimo Lorenzo Deldin a recuperare questa palla vagantinaria, l'ha tenuta, ecco D'Arizza adesso che sale, mette la palla dentro per Scalette, che ha mancato la deviazione, ha mandato fuori causa Santa Terra e Giazzon di mestiere, lo ferma poi soppelsa, armenise, Scalette, soppelsa, va via, bene, siamo tre contro tre, c'è Gondo sulla destra, servito, c'è del dino in mezzo, Gondo, c'è del dino in mezzo, ritarda, terra in agguato, protetto da Giazzon, è uscito Bey, scambio con Polisane, ancora il rilancio bruttissimo questa volta, Santa Terra, Santa Terra, Santa Terra, il sinistro è una ciabattata, è una ciabattata sull'intervento di soppel, Giazzon, inspiegabilmente, poi ancora Trevisan sulla sinistra, il cross, Bey, bravissimo Bey, perché è dovuto andare in anticipo, un palloma, al sinistro, lo tenta, palla bassa, e Bey che ha tenuto lì la palla, non era un sinistro irresistibile, era angolato, e nel frattempo è Santa Terra, Santa Terra, è bravissimo, Alessandro Bey sul suo palo, Santa Terra è nuovo per un palloma, il cross sul primo palo, Polisane non ci arriva di un niente, correre, un palloma per Gondo, bel numero di Gondo il sinistro, applausi per Gondo, ha fatto un numero spettacolare, controllo di destro, sombrero sul difensore, e poi sinistro sul palo lontano, guarda, Salvadori per Pellicano, Pellicano, di nuovo per Salvadori, bella triangolazione, Salvadori, del fondo, palla dentro, bassa, ha cercato Deldin che non è riuscito a controllare, ancora Pellicano, c'è Salvadori dietro, Pellicano, va via, a balotta, il cross, è un tiro cross, bravo, bravo Pellicano, è un tiro cross, ancora un angolo che non si concretizza, ma c'è Salvadori da questo lato, contro cross, bello, bellissimo stacco di testa del capitano Marco Giazzon, che non inquadra lo specchio della porta, sta crescendo la porta, Polesana di testa la mette fuori, quindi Orofino la perde, Pellicano può partire, c'è Gondo accanto, due contro due, Gondo, Gondo velocissimo, dall'altra parte c'è Giazzone, Gondo, la conclusione ci ha battata, c'era Rodariz e Giazzone, che si è fatto tutto il campo in contropiede il capitano, l'ufficialità è di Giazzone in questo rilancio, c'era Buondonno lì, ben per tutti, attenzione a Gondo, e c'è il gol, e c'è il gol di Gondo, sul cross di soppensa, una palla che passa, e Gondo ci arriva prima di tutti al ventunesimo minuto del secondo tempo, c'era Buondonno lì, ben per tutti, attenzione a Gondo, e c'è il gol, e c'è il gol di Gondo, Moroni poi appoggia a sinistra per Palmieri, 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 e beh, respinge, beh, bella conclusione di Palmieri che adesso cosa crampi, Balloma il sinistro, che stava andando verso la porta, evitano di rigiocarsela lì per prendere il fuorigioco, e Balloma va via, il cross di destro, e c'è il gol, era liberissimo Tony Argenta, liberissimo sul secondo palo, Tony Argenta, 2 a 0 per il trese al trenteso minuto di gioco, il bel cross di destro di Julian Balloma, dopo il calcio d'angolo di Gondo, Tony Argenta, poi corre sotto la curva a esultare, 2 a 0 per il trese alla mezz'ora, prendere fuorigioco, e Balloma va via, il cross di destro, e c'è il gol, era liberissimo, sta mette fuori, arriva Raso, e bravissimo, beh, perché Zanavio l'aveva indirizzata verso il set, diamo soltanto il fisco dell'albuto, che arriva qui dopo che Giazzone ha recuperato palla, Feltrese 2, dolo 1909, 0, sconfitto un tabù, sconfitto una bessa nera, inizia con una vittoria, la stagione 2012-2013 in eccellenza della Feltrese di Marco Marchetti.